come migliorare la propria vita come musulmani nel ventunesimo secolo. Ora, la questione cos'è? La questione è che, la cosa bella è che la nostra vita diventa una vita di qualità nel momento in cui si interseca e si sovrappone a ciò per cui siamo stati creati. Cioè, Allah SWT ci ha messo dentro dei dispositivi di allarme o di benessere in base a quanto ci sovrapponiamo o ci discostiamo da ciò per cui ci ha creati, da serata il mustaché. Per cui, se ci diamo tanto al lavoro e dimentichiamo l'adorazione, abbiamo segnali d'allarme, infelicità, frustrazione, senso di vuoto. Se ci dedichiamo tanto all'adorazione, ok? O se non miglioriamo la vita delle persone, se viviamo solo per portare la pagnotta a casa, ok? Abbiamo senso di allarme, cavolo, ho una vita frustrante, ho una vita vuota, ok? Quindi Allah SWT ci ha messo dentro questi dispositivi interni che ci fanno stare male nel momento in cui non stiamo facendo ciò per cui siamo stati creati. Per cui, in realtà, la cosa più semplice, tra virgolette semplice, ma non facile da fare, per migliorare la propria vita, è essere compatibili con ciò per cui Allah SWT ci ha creato. Quindi, nel momento in cui, nella nostra giornata, cioè, sicuramente l'avete già provata nella vostra vita, se nella vostra giornata, ok, avete le vostre sessioni di spiritualità che vi soddisfano, salate le preghiere in tempo, leggete un po' di corano, fate du'è, e in più avete una giornata produttiva, soddisfacente, in cui fate sia del bene, fate bene il vostro lavoro, il vostro lavoro contribuisce a un qualche progetto più grande, vi assicuro che già la sera vi sentite con una soddisfazione straordinaria. Per cui, per migliorare la propria vita, bisogna riuscire a ricreare questa condizione più giorni possibili, ok? Il più a lungo possibile, quindi, vivere per una missione che sia compatibile con il nostro ruolo di khalifa, e adorare Allah, e essere fortemente connessi con Allah SWT. Ora, quindi, lo strong believer è colui che ha una forte spiritualità e ha un grosso impatto. Come si coltiva? Andiamo un po' più nel pratico. Come si coltiva la spiritualità? La spiritualità si coltiva con le adorazioni rituali, con salat. Nel momento in cui una persona prega, se prega con consapevolezza, se prega stando concentrato su quello che dice, cos'è che succede? Succede che c'è una rigenerazione spirituale, c'è un rinforzo spirituale. E questa forza spirituale non serve solo a pregare Allah e stare bene sul momento, ma diventa anche una forza interiore con la quale si affrontano le difficoltà della vita, con più forza, si travolgono gli ostacoli. Perché? Perché c'è questa forza interiore che ti permette di andare incontro agli ostacoli in maniera molto più decisa e più determinata. Voi ne avrete, sicuramente nella vostra vita avete incontrato magari delle persone che, a parità di difficoltà, che sia una difficoltà economica, di lavoro, perdita di un cavo, perdita... Cioè, alla fine questa vita è una vita piena di prove, è inutile nasconderselo. Quindi, a parità di prova, a parità di iptiler, vedete, una persona che ne esce distrutta, una persona che invece è centrata, è equilibrata, è ferma. C'è chi si fa travolgere dalla tempesta, delle difficoltà della vita, e c'è chi invece rimane fermo come una roccia. La differenza dove sta? Nella forza interiore. La forza interiore come si coltiva? Con la spiritualità. Ok? Quindi, visto che diamo per scontato che la nostra vita ce lo dice chiaramente, patti chiari e amicizia lunga, vi metteremo alla prova con scarsità di economia, di perdita di persone care, eccetera, eccetera, parte del percorso per essere felici, per stare bene in questa vita, per migliorare la propria vita, è aumentare la mia forza interiore per riuscire a fronteggiare l'iptiler e le prove della vita. L'altra cosa da fare è riuscire ad avere maggiore impatto. Più impatto abbiamo, che migliora la vita delle persone, e migliora la vita di questo mondo, migliora questo mondo, più abbiamo soddisfazione, più siamo vicini ad Allah, e più, sia in questa vita, sia nell'altra vita, siamo in una condizione migliore. Ora, per ottenere risultati di alto livello, per lasciare un grande impatto, essere degli strong believer, e quindi ottenere dei risultati di alto livello, c'è una premessa. Per ottenere risultati di alto livello, bisogna fare azioni di qualità, azioni di alto livello. Fin qui, tutto chiaro. Però, per fare azioni di alto livello, c'è a monte un'altra cosa. Ci sono a monte decisioni, cioè prima del risultato c'è l'azione, prima dell'azione c'è la decisione. Devo decidere, ok? Ma ancora a monte di una decisione di alto livello, c'è la mentalità di alto livello. Per cui, se andiamo a curare la nostra mentalità, la andiamo a potenziare insieme alla nostra forza interiore, e poi andiamo a curare la nostra capacità di prendere decisioni. Poi, curando la nostra capacità di prendere decisioni, migliora la nostra capacità di fare azioni di qualità. E migliorando la nostra capacità di fare azioni di qualità, migliora la nostra capacità di ottenere risultati di alto livello. E questo a cosa porta? Porta al fatto che noi, in prima persona, siamo le persone migliori, sia nei confronti, sia in questa vita, sia nell'altra. Siamo degli strong believer. Ma la cosa importante e fondamentale è che se tanti credenti ottengono dei risultati di qualità, se abbiamo tanti strong believer, abbiamo poi una UMA di qualità. Perché oggi la UMA è una UMA debole. Perché? Perché è composta da tanti credenti deboli. Se arriviamo a un numero sufficiente di credenti forti, poi si arriva ad avere una UMA forte. Per cui, in realtà, tutto questo progetto, il progetto Strong Believer, di cui vi ho accennato prima, è un progetto che ha come obiettivo quello di contribuire alla rinascita della UMA, aiutando i singoli credenti a riprendere la propria vita in mano e a portarla a un livello superiore e ad esprimere al massimo il proprio potenziale. Per cui, se vi interessa questo tipo di progetto, c'è il link in descrizione, potete unirvi alla community. Per cui, quindi, questo è il progetto che ci sta dietro. Per cui, per creare una UMA forte, servono dei credenti forti. Per cui dobbiamo lavorare su noi stessi. Cioè, molto spesso noi, per la nostra UMA debole, diamo la colpa ai nemici, diamo la colpa agli altri che sono ignoranti, diamo la colpa ai politici, diamo la colpa alla corruzione e non diamo mai la colpa a noi stessi. Ok? Non diamo mai la colpa a noi stessi. Dobbiamo lavorare prima di tutto su noi stessi. E come abbiamo detto, bisogna lavorare prima di tutto sulla propria mentalità, poi sulla propria capacità di decidere, poi sulla propria capacità di fare azione, e quindi di lasciare un impatto. E questo, di riflesso, quando ci sarà un numero sufficiente di Strong Believer, porterà alla rinascita della UMA. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma sai, guarda, quanti siamo qua? Siamo in 22, ok? Nel progetto Strong Believer quanti siamo? Siamo in 1500 persone, quasi, neanche. Ok? Sai quanta strada c'è da fare per arrivare a tutti noi? Ora, al netto del fatto che non ci siamo, solo noi che lavoriamo per la rinascita della UMA. Però la buona notizia è che non servono tutti. La buona notizia è che per la rinascita della UMA non c'è bisogno di tutti. Ok? Lo so che questa frase è una frase un po' forte. Non c'è bisogno di tutti, non nel senso che non vogliamo, cioè, non siamo nessuno per escludere o includere qualcuno. Però le comunità funzionano, sono composte in questa maniera. Le UMA nella storia e le comunità funzionano in una certa maniera. Non serve il 100% delle persone. Ogni comunità, ogni società è composta, semplificando, semplificando, è composta da un 2% che guida. Queste sono statistiche sociologiche. Da un 2% che guida e da un 98% che segue. Ok? Ogni comunità ha un 2% che guida e un 98% che segue. C'è anche un accenno del profeta, salallahu alaihi wa sallam, a questo concetto. Il profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse in un hadith che gli esseri umani sono come una carovanna. Ora, c'è una premessa teorica da fare. Per noi italiani, magari, siamo tutti uguali, però per chi è beduino, per chi ha vissuto con queste cose qui, sa che c'è differenza tra cammello normale e cammello capo carovana. Il cammello capo carovana è quello che viene seguito da tutti gli altri. Il profeta, salallahu alaihi wa sallam, ci accenna questo concetto, questa scoperta sociologica che hanno scoperto negli ultimi decenni, no? Gli studiosi, e accenna questa cosa, dice gli esseri umani sono come una carovana di cento cammelli che, se fossero, di cui 99, cioè, sul significato del hadith, se i 99 che stanno dietro fossero lasciati senza una guida, si perderebbero. C'è bisogno di un cammello guida che poi guida la carovana. Quindi questo è il concetto a cui accena anche il profeta, salallahu alaihi wa sallam. Questo per dire cosa? Per dire che in realtà non è che serve arrivare ai due miliardi di musulmani del mondo, e anche nella comunità islamica italiana, non è che bisogna arrivare a due milioni di musulmani. La cosa fondamentale è lavorare sull'elite, sull'elite non nel senso classista del termine, su un gruppo che poi funga da guida. Ok? E quindi, la nostra scelta deve essere ok, io voglio far parte di quel 2%. E qualcuno potrebbe chiedere ma guide si nasce o si diventa? Cioè, ma se io ho un carattere che non sono predisposto a guidare le persone, cosa posso fare? Ok? Come posso fare affinché il mio impatto sia maggiore? Perché per poter lasciare un grande impatto bisogna essere capaci di influenzare le altre persone. Ma, chi mi dice che io sono fatto per sta roba qui oppure sono una persona che non sono portata per questo? Beh, in questo caso ci viene sempre in soccorso diciamo le scienze sociologiche e psicologiche e c'è uno studio che dice che la leadership ok, è 2% nel 2% della comunità di un campione di persone 2% di queste sono predisposte alla leadership. Poi c'è un altro 2% che non possono diventare leader neanche se lo volessero per caratteristiche interiori, per debolezze proprio intrinseche. Ok? Non possono influenzare gli altri, non possono in nessun modo influenzare gli altri e quindi essere dei leader, essere delle guide e avere un grande impatto. Queste purtroppo sono sfortunate. Ma il restante quindi 2% predisposto 2% non ce la può fare ok? Ma il restante 96% può apprendere la leadership. A diversi gradi, chiaramente ognuno in base a sue predisposizioni può apprendere la leadership, può apprendere la sua capacità di influenzare e di ottenere dei risultati di alto livello. Per cui noi abbiamo fondato la Strong Believer Academy, cioè il progetto Strong Believer, poi c'è la Strong Believer Academy, l'abbiamo fondata su questa consapevolezza che la propria capacità di lasciare un impatto, la propria capacità di essere influenti in questa vita, di dare di più, è insegnabile. Si può imparare, non è un qualcosa che o ci nasci o nasci brillante e capace di influenzare o non lo sarai mai. Ok? È una cosa che si può insegnare e la Strong Believer Academy si basa su questo concetto qui. Per cui, la questione qual è? La questione è che ognuno di noi, alla luce c'è, a meno che uno non abbia una grossa disabilità tendenzialmente, non è che ci sono grandissimi leader senza né braccia, né gambe, né niente. A meno che uno non abbia una grossa disabilità, ma non sareste qui ad ascoltare una diretta, la capacità di lasciare un impatto e di influenzare le persone è insegnabile. E dato che noi siamo seguaci del profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam, dato che il profeta salallahu alaihi wa sallam ci ha insegnato che il credente forte è migliore e più amato da Allah, subhanahu alaihi wa sallam, del credente debole, è l'obiettivo di fare tutto ciò che è migliore e fare tutto ciò che c'è da fare per essere amati da Allah, subhanahu alaihi wa sallam, allora il nostro obiettivo deve essere ok, voglio diventare un credente forte, voglio lasciare un impatto, voglio essere un miglior vicario di Allah, subhanahu alaihi wa sallam in questa vita e quindi investire su noi stessi e lavorare su noi stessi. E noi abbiamo creato il progetto Strong Believer, la community a cui potete unirvi dal link in descrizione, è una community in cui ci sono dei confronti senza testimonianza di tantissime persone che sono confronti di un certo livello, alcune sono anche qui che ci ascoltano e questo confronto ci vengono condivisi dei contenuti di un certo tipo e poi c'è l'academy per chi vuole andare a fare proprio un lavoro più approfondito su se stesso. Quindi questo è un po' il ragionamento per, adesso indipendentemente dai piccoli spot che faccio riguardo alla Strong Believer Academy, se voglio diventare Strong Believer, abbiamo detto che il credente forte è migliore e il credente debole, voglio diventare credente forte per essere un miglior vicario di Allah Spano in questa vita. Su cosa devo lavorare? Uno, spiritualità, ok? Due, due, mentalità, perché poi questa ha influenza sulla decisione e influenza sulla nostra capacità di fare azione e di ottenere risultati. Questa è un po' la mappa del lavoro, spiritualità e lavorare sulla propria mente, ok? E sulla propria capacità di prendere decisioni e sulla propria capacità di fare azione. Quindi queste sono un po' la mappa del lavoro, no? A cui abbiamo accennato nel titolo per diventare degli Strong Believer. Uno dei tipi di azione di alto livello e di impatto è la DAO, sicuramente, ok? Sicuramente uno dei modi per lasciare un impatto è fare DAO. E in realtà la DAO non è solo parlata come sto facendo io adesso magari o come facciamo... No, la DAO non è solo parlata, cioè la DAO è diretta, la DAO è indiretta anche la rappresentanza è DAO, ok? Anche essere delle persone migliori d'esempio è DAO, per cui la DAO è anche... Abbiamo la sorella, una sorella qua molto in gamba che è una profonda... Cioè insegna all'università e insegna con il velo, la sorella è lì, anche quella è DAO, senza fare... Lei insegna nutrizione, quindi roba scientifica, per cui anche questo è DAO. Abbiamo... Esistono tantissimi tipi di DAO, esistono tantissimi tipi di modi di lasciare l'impatto. Anche prendere... Anche capitanare, diciamo, e proporre anche in maniera laica i principi islamici, ok? È DAO. Migliorare il mondo è DAO, è tutto DAO, ok? Perché DAO cosa significa? Significa invitare le persone a vivere il più conformemente possibile a ciò che ha indicato Allah, Saccano al Zai. Io di sicuro seguo solo. Guarda, immagino che te l'abbia detto ironicamente, però tutti, come ho detto, a meno che davvero non ci siano incapacità mentali, tutti possiamo imparare a... Noi tutti dobbiamo seguire, noi tutti, per esempio, seguiamo il profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, e ci sono dei nostri insegnanti che ci insegnano, per cui non è che è una questione di io voglio fare il capo, no, tutti ci facciamo influenzare da delle persone migliori di noi, e dobbiamo scegliere da chi farci influenzare, perché c'è chi sceglie da chi farsi influenzare, e chi si fa influenzare da chi li capita attorno, per cui seguo le persone giuste, mi creo una buona compagnia, eccetera, eccetera, e in qualche modo mi faccio influenzare. Allora, influenzare non significa manipolare le persone, significa influenzarle positivamente, chiaramente. cioè stiamo parlando comunque di una conferenza, cioè una diretta tra persone musulmane, che parliamo, cioè alla fine una persona quando fa DAW, quando parla, ma anche quando è con mio figlio, quando parlo con una persona, ma anche con un sorriso, stiamo esercitando un certo tipo di influenza, un sorriso che fa venire il buon umore a un'altra persona, è uno simbolo di influenza, per cui noi tutti influenziamo e veniamo influenzati. Come ha detto Shatira, volenti o nolenti, influenziamo le persone della propria famiglia, gli amici, vicini, colleghi, quindi è meglio farlo consapevolmente. Come farlo? Ecco, come farlo? Bisogna lavorare su se stessi, sulla propria persona, abbiamo detto, sulla propria capacità innanzitutto di avere un obiettivo, ok? Però perché formulare un obiettivo degno di nota? Bisogna avere una mentalità capace di formulare un obiettivo degno di nota, perché io ho tantissimi dei ragazzi che mi arrivano in coaching, nel percorso chiarezza mentale, mi arrivano con obiettivi voglio laurearmi, ok? Ma questo è uno strumento, non è un obiettivo, poi voglio trovare un lavoro, ok? Anche questo è uno strumento, non è un obiettivo, cioè hai un progetto di vita, hai qualcosa con cui vuoi lasciare un'impronta, finché non individui quello è difficile lasciare un'impronta, cioè se non sai dove andare, come fai a guidare altre persone? Come fai a influenzare e impattare su altre persone se anche tu non sai dove andare? Per cui, uno dei primi ingredienti per poter influenzare e consapevolmente le persone, Shakyra, è avere una visione per la propria vita, avere una visione verso cui guidare, verso cui andare, ok? E lì, da lì in poi, su quell'argomento per cui hai formulato la tua visione, vai a creare tutto il lavoro che andrà a creare, a influenzare. Ora, il tema dell'influenza è un tema controverso perché è molto legato a doppio filo a temi come il carisma e cose di questo genere. Non è così. Non è così. C'è gente, la leadership o la capacità di guidare, di influenzare non è solo basata sul carisma. Ci sono leader che non sono carismatici. Ci sono leader che sono intelligenti. Ci sono leader che sono strateghi. Ci sono leader che sono tra virgolette dei secchioni attraverso la loro tra virgolette secchionaggine facciamo un esempio personalmente io non mi ritengo una persona carismatica. Io non sono uno che almeno non lo sono stato in passato poi magari col tempo una persona può anche evolvere però e anche tante persone che mi hanno influenzato non sono carismatiche eppure qualcosina combiniamo con i ragazzi di Strong Believer per cui non è sempre una questione di carisma di sono predisposto di sono una persona portata per avere carisma per influenzare gli altri non è così c'è chi influenza con l'intelligenza con lo studio con il contributo con la strategia con l'empatia ognuno deve conoscersi ok e poi e poi capire qual è il suo ruolo qual è il suo contributo da califa in questa vita infatti in uno dei percorsi che abbiamo in a Strong Believer Academy c'è il protocollo di autoesplorazione no il protocollo di autoesplorazione è un protocollo che insegna a conoscersi meglio capire chi si è e quindi andare a capire quali sono i contesti in cui possiamo dare di più perché Allah se ci ha creati ci ha creati con delle predisposizioni che ci rendono perfetti per una serie di ruoli noi dobbiamo trovare si dice questa frase fatta trovare il proprio posto in questo mondo certo è così che si fa trovare il proprio spazio in questo mondo però loro i non musulmani magari lo dicono con una certa con una certa inconsapevolezza trovare il proprio posto in un mondo ma è una filosofia tappabuchi noi sappiamo che in realtà ognuno di noi ha a modo suo il suo modo di fare carica è chiaro che uno con una grande capacità razionale strategica matematica avrà un ruolo diverso da chi invece ha una grandissima empatia una grandissima capacità di comprendere le persone di saper a che fare con le persone è diverso da una persona che ha una capacità di parlare di esprimersi di di convincere è diverso da una persona che invece ha una grande capacità riflessiva una grande capacità non vuol dire che siano in contraposizione a queste caratteristiche però è chiaro che ognuno in base alle sue caratteristiche e peculiarità è più predisposto a un determinato tipo di ruolo è chiaro che chi ha una predisposizione a studiare io ho il fratello MFLA che studia un numero di ore straordinario e lui chiaramente ha un contributo che sicuramente è nel lato intellettuale ok io non riuscirei mai a stare sui libri così tanto si studierò un paio di ore al giorno tutti i giorni per motivi professionali per migliorare però quanto fa lui non ce la farei non ce la farei quanto fa lui cioè lui anche i video su youtube se li ascolta prendendo appunti io non riuscirei a fare una cosa di questo genere per cui lui ha una predisposizione verso un tipo di ruolo e io probabilmente ho la predisposizione verso altri tipi di ruoli eccetera eccetera per cui ognuno deve conoscere se stesso capire capire bene chi si è capire bene poi che tipo che ruolo si vuole avere in questa in questa vita e da lì una volta che uno ha chiaro cosa vuole fare in questa vita parte la sua capacità di influenzare e parte anche la sua capacità di farsi influenzare coscientemente nel senso che ok ho capito dove voglio andare perfetto devo espormi a questo tipo di influenze perché questo tipo di influenze mi potenziano per il mio obiettivo ok ecco capacità ma soprattutto volontà assolutamente tutto parte da una decisione dalla decisione di dire ok io voglio diventare un tipo di persona che è anche un peccato ragazzi ci siamo stati creati abbiamo tanti tesori nascosti dentro di noi cioè vogliamo davvero portarceli in tomba senza che vengano neanche scoperti è davvero triste andare e morire con i nostri tesori dentro di noi senza aver conosciuto noi stessi e senza aver espresso le nostre potenzialità per cui davvero un lavoro che non è che è solo è proprio è proprio uno spreco è uno spreco la sua musea ci riempie di doni di talenti e noi moriamo prima di conoscerli moriamo prima di esprimerli perché? perché volevamo lo stipendio fisso il posto fisso in provincia volevamo ci siamo incasinati con un mutuo che non riuscivamo a sostenere e il nostro massimo pensiero sono le bollette le bollette e portare a casa la pagnotta non è per questo che siamo stati creati ed è uno spreco passare la propria vita così bisogna passare bene per la conoscenza di se stessi assolutamente ho completato l'iscrizione baracloufik barru non vedo l'ora di vederti nella nostra community ragazzi per chi volesse a chi piace questo tipo di mentalità questo tipo di filosofia unitevi al link in descrizione che c'è una community che vi aspetta una community abbastanza esclusiva di persone che vi aspetta ci sono anche un sacco di regali abbiamo messo a disposizione un sacco di regali e gli iscritti alla newsletter periodicamente ricevono delle chicche molto interessanti adesso stiamo preparando anche con la sorella Elif che è qui con noi una guida straordinaria Basarley è una sta facendo un dottorato di ricerca sul tema della nutrizione e sta facendo anche una ricerca per far intersecare la sua la sua la sua professionalità con le sonne del profeta riguardo al benessere all'alimentazione e alla salute per cui inshallah nelle prossime lo annuncio qui nelle prossime settimane lanceremo questa straordinaria guida ringraziamo la sorella Elif e quindi unitevi alla newsletter perché davvero ci sono un sacco di regali di cose interessanti il bilancio delle competenze è essenziale ma ritengo che Elif sia il pilastro nella trasmissione del messaggio chiaramente Esme ha toccato un punto fondamentale e con questo concludiamo tutto questo che facciamo non lo facciamo cioè tutto questo discorso del migliorare del prendere la propria vita in mano del lasciare un impatto del contribuire alla rinascita della UMA di essere quindi un credente forte uno strong believer non ha nessunissimo senso se lo facciamo per motivi di ego per motivi futili alla fine moriremo vi assicuro che tutti noi moriremo nel giro di un centinaio di anni non ci sarà nessuno di noi in questa vita e a quel punto conterà solo quello che ci siamo portati dall'altra parte e quello che ci siamo portati dall'altra parte non sono solo le azioni ma anche ma in base all'intenzione con cui abbiamo fatto un determinato tipo di azioni con cui abbiamo intrapreso un percorso per cui ricorda me stesso per primo ok e a tutti a tutti voi mi raccomando Nia Big Nia e ambizione e rendiamo inshallah come dico sempre nei post sul gruppo make un magrit salamu alaikum rahmatullah barakallahu fikum per l'ascolto e spero di vedervi tutti nella community salamu alaikum rahmatullah grazie a tutti